dai so nooo non ci ricordo che io con te scusate ma... l'isotta è... sono raggiata si perchè il video che vedrete non ha come protagonista isotta stavolta ma Ionito, no? è il numero col quale ho fatto Tusikwales con Ionito e non è in granché come non è in granché non è vero abbiamo avuto un sacco di complimenti per questo video e ha fatto un successone no Niko, veramente non ho capito che c'entrava Coltai Ionito e non Coltai Sotta è che tu non potevi partecipare a Tusikwales perchè hai già fatto Italia's Got Talent ah quindi lo sanno che io ho Alos più o meno il principio è quello vabbè comunque mi raccomando iscriviti al canale si questo è importante perchè soprattutto i video sono i miei no non è vero dai attivate la campanellina per ricevere notifica quando pubblicheremo nuovi video soprattutto i miei ecco mi raccomando alla fine di questo video se vi sarà piaciuto mettete like ecco e quindi buona visione ma non laschiettate in granché dai mannaggia che prossigoro Ciao tutti, 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 ciao Sì, io ti dico che sei? Io sono un DJ Che bestia Che sei? Un ornitorinco E sei? Un DJ Ti chiami? Io onito E quindi sei? Un ornitorinco io onito Slow? E un DJ Chi sei? Un DJ Chi sei? Un DJ E quindi sei? Un DJ Sì, sei Fammi parlare Sei qui per? Per? Cantare Sì, sono un DJ Vabbè, ascolta Innanzitutto però Quando te presenti Fa una cosa un pochino più seria Che ne so Saluta il pubblico E cioè? Come ti ho insegnato? Quando? La trasera a Firenze Ok Come a Firenze Sì Vai Ciao Firenze Ma non siamo a Firenze Hai sbagliato strada? Magari Grazie Siamo a Petritoli E dove? Nelle Marche E quindi? E quindi non lo so Chi saluta Petritoli? Oppure Come si chiamano gli abitanti di Petritoli? Eh? Petritolesi E perché? Perché è normale No? Per esempio Quelli di Petritoli sono Petritolesi Quelli di Perugia sono Perugini Quelli di Arezzo Aretini Quelli di Firenze? Fiorentini E quindi tu sei di Creta? No Ok Ascolta tagliamo subito Lo corto Senti Ci vuoi far sentire Una canzone che hai scritto? Sei un DJ? Sei 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 un DJ Hai scritto una canzone? Sì La canzone è? Senza parole Vai Canta Ionito una canzone da DJ? Sei un DJ? Senza parole Vai Mi concentro? Concentrate vai Ognuno si concentra in modo suo Vai Unz 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 Il ritornello Unz 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 Il finale Sicuramente sarà Unz Ecco Grazie 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 Sei un DJ Yeah Ionito DJ Ascolta non ce l'hai una canzone con le parole? Su Ce l'hai? Su Come si chiama? Su Il titolo Su Come si chiama? Su Su Ah si Non su Su Eh? Su Ah su Non su Su Ok No ok Su Ah si Su Ok No ok si chiama su Ho capito si chiama si Su Ok Si Su Vai Mi concentro? Si ma più di prima Io Veni Sono Sono Super concentrato Super concentrato Sicuramente adesso Farò una bellissima Canzone Che Che c'è? Mi sono concentrato troppo E quindi? Eh? Mi sto cagando addosso Ok Signori Ionito Corri 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 Ah Che schifo Sì Ioni No l'ho messo qua NICOLA Eh si Che c'è? L'hai messo qui dentro Eh lo so Ci sto io Eh lo so Che è beh NICOLA aiuto Che c'è eso? NICOLA aiutami Perché? Come lo schievo Che c'è? NICOLA Eh L'ordito rinco Che ha fatto? Un uovo Ma come ha fatto a fare un uovo? Un maschio NICOLA Eh? L'uogo È un marroncino Vabbè dai un attimo Allora Adesso vi presento questo personaggio Grande tecnica Grazie Ne abbiamo visti tanti Però guarda che lui si palleggiava Un secondo via l'altro E non l'abbiamo mai beccato Tanto lo sappiamo Che sei ventriloquo In errore Quindi secondo me Grandissima tecnica Grazie 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 Molto bravo Al punto tale che poi vivi la storia del pupazzo Non pensi più al fatto che sei tu che parli Quando questa terza persona a un certo punto si anima ed è così L'attenzione va proprio totalmente su di lui Mi fa veramente tanto piacere questa cosa Grazie Per me vale Grazie Bravo Anche quando lo fai parlare da dentro la scatola Grazie Guarda vedi Grazie 82% Grazie Bravo Grazie 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 a tutti.